Tosce! Ok, allora vorrei chiamare alla premiazione il primo cittadino, il primo cittadino, il primo cittadino, grazie, e l'assessore, e l'assessore delle premiazioni, grazie. Ok, allora, per introdurre, due parole del primo cittadino, mi raccomando, più di due minuti non li do, poi taglio il filo. 30 secondi. 30 secondi, ok, la parola al primo cittadino. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per aver partecipato a questa, a questa sulla pedalata. E' bello vedere i bambini, mi piacerebbe che l'anno prossimo ci fossero molti di più, ma è bello perché è un momento di divertimento, di condivisione tutti insieme. Siete stati tutti bravi e meravigliosi perché è bello vedere che bevete, mangiate, ridete e finalmente una bellissima giornata di condivisione insieme. Complimenti a tutti voi. Grazie. Molto gentile. Lei è contenta che avete fatto la corso oggi? Io ero più contento che la facevano la pista dell'onate perché avevo comprato gli ombrelli da vendere, quindi di conseguenza mi sono rimasti tutti in magazzino gli ombrelli. La parola sarà per la prossima volta. Ok, allora andiamo alla premiazione. Ai bambini. Terzo classificato è Orlati Gabriel. Lei prendi, 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 prendi. Qua, qua, qua davanti. Assessore, vieni qua anche tu. Secondo classificato. Foto. Classificato. Nicolas Frontini. Bravo. Nicolas, dove sei? Mentre la più grande la coppa di te, vogliamo. Chi è atleta sei? Chi è atleta sei? Fortissimo. Primo classificato. Bresciani Federico. No. Chi? Bravo. Grande la maglietta. Grande la maglietta. Bravo. Bravo. Bresciani Federico. Testa che arriva il fotografo di... Nico, guardami. Bene. Bene. Ok. Volevi per te, Giovanni? No, ringrazio anche le società tipo la Locatese, i Ugreen, che sono venuti qua numerosi e hanno garantito anche loro lo spettacolo nel percorso. Ok, grazie a tutti i partecipanti. Allora, adesso? A posto. A posto. Grazie. Bravi. Grazie. Grazie.